Giuseppe Martino, ennesima stagione come preparatore dei portieri del Pisa, quest'anno il materiale non è niente male, seppi e pugliesi è una bella coppia. È una conferma già dall'anno precedente, Luigi sta dimostrando quella crescita costante che l'ha contraddistinto anche l'anno scorso a fine campionato, stiamo puntando molto su lui, per ora i risultati ci danno ragione, con la crescita che sta effettuando e con l'aiuto anche di Maurizio, che sicuramente per l'esperienza che ha e tutto il lavoro costante che dimostra durante gli allenamenti sicuramente non potrà altro che migliorarsi. E poi c'è anche Davide Adornato che se ne parla poco ma ha un ottimo futuro davanti a sé. Sicuramente, Davide è un ragazzo serissimo, mi meraviglio che non sia riuscito, forse qualcuno non ha creduto nelle possibilità di questo ragazzo, in categorie sicuramente professionistiche come può essere una Lega Pro 2, comunque si sta allenando sempre con la massima serietà e anche lui con la sua serietà sta apportando una crescita costante a tutto il reparto portieri.